Ciao a tutti, come sedore un uomo facendogli credere di averti sedotti? In questo video voglio spiegarti quali sono le strategie migliori per sedore un uomo facendogli credere di averti sedotta. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte precise. Ma veniamo al tema, come sedore un uomo facendogli credere di averti sedotta? La grande seduttrice è quella che seduce gli uomini, dandogli l'impressione di essere stata sedotta. Allora, quello che devi fare per sedore un uomo facendogli credere di averti sedotta è, diciamo, generare prima un'apertura, cioè entrare in contatto con quest'uomo. La cosa migliore è sicuramente quella di utilizzare delle strategie situazionali, cioè chiedergli qualche cosa. Se lo fai online devi capire bene il suo profilo, quali sono le sue caratteristiche, quali sono le cose che gli piacciono e poi gli puoi fare una domanda. Se lui ad esempio noti online che è un appassionato della fermentazione della birra, gli fai una domanda sulla birra per dire, no? Comunque dovrai chiedere qualcosa, in questo modo lo indurrai anche già a fare qualcosa per te, a predisporsi, diciamo, anche indirettamente comunque ad agire nei tuoi confronti, a fare qualcosa per te. Ecco, questo è un qualcosa di importante, un qualcosa di fondamentale. Questo è un principio, diciamo, molto importante. Questo perché se tu gli fai credere, diciamo così, di far qualcosa nei tuoi confronti, gli fai credere che stai agendo, diciamo, nei tuoi confronti, ma senza un motivo, cioè senza, cioè il motivo è un motivo logico, anzi, che lui deve darti qualcosa, beh, questo gli farà comunque venire il dubbio, gli piacerò, non gli piacerò. La seconda cosa è, diciamo, essere in grado di portare comunque avanti una conversazione, no? Quindi buttando lì delle cose e lasciando che lui poi parli, insomma. Ma l'importante è mantenere sempre un rapporto amichevole e non far intendere che ci sia un'attrazione. Per generare attrazione invece in lui, non in te, l'unico modo è manifestare la tua femminilità, ma deve essere una femminilità di classe, quindi sia attraverso i social, sia attraverso altre cose, devi manifestare la tua femminilità attraverso l'abbigliamento, attraverso, dipende dove l'hai conosciuto, dove avviene questa cosa. Comunque manifestare femminilità, essere femminile, quindi questa è una skills veramente importante, una skill veramente importante, un'abilità veramente importante per una donna. Una donna, se vuole sedurre, non può prescindere dall'essere femminile. Femminile ma di classe e non femminile disponibile. Ecco, questa è un'altra cosa fondamentale. Dopodiché, se tu riuscirai a capire che hai generato attrazione, è quando lui in qualche modo si manifesterà, manifesterà l'esigenza di cercarti, manifesterà l'esigenza di comunque voler ottenere qualcosa da te, insomma. Questo è quello che succede, insomma. Tu capisci che lui è attratto da te quando fa qualcosa nei tuoi confronti, quando si manifesta in qualche modo nei tuoi confronti, quando va a ricercare, insomma, una relazione con te. Se non succede questo, vuol dire che non c'è nessuna attrazione. Nel momento in cui viene a ricercarti, nel momento in cui manifesta attrazione nei tuoi confronti, beh, il gioco è fatto, però non devi ovviamente cedere. Devi frenzonarlo. La cosa interessante è lo frenzoni, cioè crea una connessione, mantiene una connessione cognitiva, razionale, legata all'amicizia, ma lo frenzoni. Lo frenzoni nel senso lo tratti da amico. Questo è fondamentale, perché l'uomo è frenzonato, trattato da amico, ma chi ha tratto cercherà in qualche modo di fare delle cose per sedurti. E a quel punto lì diciamo che il gioco è fatto, perché se saprai gestire al meglio i vincoli, saprai gestire al meglio le condizioni, lui poi si sentirà orgoglioso di averti sedotto, non rendendosi neanche conto che è stato instradato in tutto il processo. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, e abbonandoti potrai farmi delle domande alle quali risponderò in apposite live. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!